Anche quest'anno a Bazzano si è svolta la terza edizione della Fiera dell'Elettronica e Informatica del Tempo Libero. La zona industriale ha ospitato più di 70 espositori provenienti da tutta Italia. Una mostra a mercato di informatica, telefonia, accessori, elettronica e wifi, materiale radio, anche antico, editoria specializzata, soft air e modellismo. Per la prima volta c'è stata anche la Fiera del Disco, una mostra a mercato di dischi usati, vinili e cd da collezione. Dalla prima edizione abbiamo valutato un ottimo riscontro, quindi abbiamo deciso proprio di riproporla per via della grande richiesta che abbiamo ricevuto. Che tipo di pubblico arriva? Gli appassionati ma anche gente normale? Di tutto, c'è di tutto. Dal signor anziano in pensione, al ragazzino che magari vuole vedere le cuffie da portare tutti i giorni a scuola, c'è di tutto. Abbiamo qualsiasi tipo di clientela. E poi per il 29 e 30 settembre è prevista la grande fiera dell'elettronica, l'undicesima edizione, quella di quest'anno, che si svolge a fermo. Che fiera sarà quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo organizzato una fiera un pochino più particolare, più dedicata ai bambini, poiché troveremo, non solo, anche per gli appassionati in realtà, di Lego. Quindi ci saranno le costruzioni, la parte dei giochi per i bambini che potranno montarli, potranno anche acquistarli già montati. E oltre a quello, come tutti gli anni, organizziamo anche una mini parte del mercatino dell'usato.